Da pochi giorni anche la Val Pusteria ha un distributore di gas metano, un concreto passo in avanti per coloro che decidono di utilizzare l'auto inquinando di meno. Vediamo. Da pochi giorni funziona a Stegona di Brunico un nuovo distributore in grado di soddisfare le esigenze di rifornimento di gas metano dell'intera Val Pusteria. Si tratta di un impianto di ultima generazione, grazie alla doppia colonna di servizio è in grado di rifornire 20 automobili ogni ora, 6 minuti il tempo necessario per un pieno di gas metano. La stazione di servizio è allacciata alla rete di distribuzione del gas, l'assessore provinciale alla mobilità Thomas Wittmann ha voluto rendersi conto di persona delle modalità di funzionamento e delle potenzialità del nuovo distributore. Vogliamo avere una rete di distributori tutto lato adice e perciò la Giunta ha deciso di sostenerli abbastanza fortemente, in quel senso i primi due in ogni compressorio prendono 70% sui costi che ci sono, più o meno 350.000 che servono per fare un distributore del genere a metano e i prossimi tre ogni compressorio prendono il 40% dei costi. Con questo noi abbiamo una distribuzione, al momento 6 distributori in funzione, altri 4 che verranno quest'anno e altri 3 che sono in pianificazione. Infatti a breve verranno realizzati i distributori di gas metano a Ortisei e a Bolzano Sud, mentre già in programma sono i nuovi impianti a Varna, sulla Mebo e a Salorno.